Nella recensione di oggi vi parlo di prodotti di cui di solito non parliamo, anzi è la prima volta che noi si fa un articolo su questo tipo di prodotto ed è un prodotto importantissimo, molto spesso non ci si dà molto peso, è invece un prodotto basilare per il funzionamento corretto, sicuro, veloce delle nostre macchine fotografiche. Vi parlo di una scheda SD dell'Hunglebird molto veloce, poi vi spiegherò le sue caratteristiche, vi farò vedere le sue prestazioni e di un disco esterno stato solido, resistente a tutti gli urti, alle temperature, agli spruzzi, veramente microscopico, guardate questo è un disco da un tera, voglio confrontare con un disco da un tera anche di quelli abbastanza compatti, guardate la differenza di misura, questo è un disco che non ha parte in movimento, di fatto il disco stato solido è da estrema robustezza e grandissima, guardate, compattezza e portabilità. Però prima di parlare di questo eccellente direi prodotto vi parlo di questa scheda l'Sd dell'Hunglebird. Prima di continuare vi ricorderò sempre ovviamente di fare la sottoscrizione al nostro canale e di spuntare la campanellina, così sarete avvisati ogni volta che uscirà un nuovo articolo come questo direi molto interessante. Allora prima di parlare nello specifico di questa sd dell'Hunglebird è meglio fare un ripasso generale di quelle che sono tutte le varie nomenclature presenti sulle schede sd, quando voi acquistate una scheda sd secondo me non la leggete completamente oppure qualcuno la legge ma alle volte ci sono dei simboli che sono difficili da diciamo da interpretare e quindi si dice non so ma si va dall'amico quale scheda mi consigli, qual è veloce, qual è che va bene con la mia macchina. Adesso faccio un riepilogo e vi faccio vedere quali sono quei parametri che sono da tenere d'occhio, da osservare quando si sceglie una scheda sd. Allora quando scegliamo una scheda sd ci sono tantissime acronimi nomenclature da andare a controllare qui ho riportato una scheda proprio dell'Hunglebird molto simile a quella che ho sottoposto a testa anzi direi praticamente uguale e andiamo a leggere insieme quelli che sono sarò molto veloce non è che vi farò una lezione didattica su tutte queste queste voci però per darvi un'idea allora vedete qui si comincia dalla capacità no già dalla sigla della scheda si parte da quelle classiche non si trova neanche più le sd sc sono quelle standard si va alle hc sd hc o sd xc quindi le standard vanno da 128 a 2 giga ormai 2 giga non servono quasi a niente alle volte ci sono macchine che fanno quasi con uno scatto 2 giga e sono formattate fat 16 poi ci sono le hc che vanno da 4 a 32 giga e sono formattate fat 32 non sto a spiegarvi il tipo di formattazione non voglio farvi appunto lezione di informatica se avrete qualche domanda meno scrivete più dell'articolo io vi risponderò poi ci sono le sd a xc che sono quelle che hanno da 64 ben 2 terabyte che sono formattate ex fat ci sono poi le classi di velocità comunque questa sigla sd hc e sd xc la vedete qua vedete riportata nella scheda la trovate sempre in tutte le schede poi ci sono le classi di velocità nel senso qual è la velocità minima garantita minima di quel di quella scheda di memoria si va dalla classe 2 la classe 10 in cui la velocità minima garantita la classe 10 per dire e 10 megabit minima garantita e la vedete qui è dentro un circolino vedete la classe di appartenenza alle volte si ha anche la classe di velocità video in cui la velocità minima garantita ripeto la minima garantita e via via crescente a seconda della v6 10 30 90 la v90 come in questo caso è la velocità minima garantita di 90 megabit secondo alle volte su certe schede si trova anche la velocità massima garantita espressi in megabit secondo o un numero con una x qui per dire no la casa dichiara è una velocità di 300 megabit secondo massima ma può variare in base al tipo di macchina che si usa il tipo di file che si va a scrivere è una velocità teorica massima oppure 633 1000 2000 x su certe lexa si trova questo valore che identifica quante volte più veloce va di un cd vi ricordate i vecchi lettori cd che scrivevano a 0,15 megabit secondo voi fate 0,15 per questo valore trovate per dire il 300 quindi identificano la stessa cosa abbiamo poi la cosa forse più importante perché ormai è comune a tutte le schede la classe velocità u hs va a identificare la u hs che può essere di tipo 1 oppure di tipo 2 come sapete bene in tutti i nostri test noi diciamo la macchina fotografica supporta le sd o hs 2 che sono quelle più veloci quello 1 quel 2 romanico identifica la velocità del bus vedete classe 1 identifica una velocità di bus di 104 megabit secondo la classe 2 di 312 diciamo che la velocità con cui può dialogare la nostra scheda di memoria con la nostra macchina fotografica cioè è il diciamo il bus di dati a che velocità massima può andare ed è molto importante perché potete intuire più è alta questa velocità più potremo avere raffiche prolungate raff corposi quindi è ovvio ma mai lo sapete che una sd o hs 2 è molto più veloce di 1 a 1 abbiamo sempre poi nell'acronimo u hs 1 o 2 un altro valore che è 1 u 3 che mi identifica la velocità minima di scrittura di 10 o 30 megabit secondo questo valore romano vedete il 2 quindi u hs 2 è questo e qui c'è l'u 3 che identifica la velocità massima di scrittura quindi quando avevi trovato un sd hc 2 quindi u hs 2 u 3 classe 10 v 90 300 megabit secondo dovreste avere in teoria la velocità massima disponibile ma non tutte le schede sono uguali adesso andiamo a vedere un po' le prestazioni di questa angle bird allora se vedete qui ho fatto un test di velocità utilizzando il black magic come software black magic come sapete è un'azienda che è prettamente votata al video e tra le varie sue applicazioni abbiamo anche un'applicazione che serve per testare appunto le schede di memoria e anche le periferiche esterne se supportano i flussi di lavoro veramente pesanti intensi nell'ambito video qui difatti vedete oltre alla velocità massima in scrittura o in lettura anche tutti i codec supportati e il protogrammi a secondo in base al codec che questa unità l'Sd o l'unità esterna un hard disk possono supportare questi sono valori molto importanti per i videomaker non si parla in questo caso principalmente di fotografia andiamo a vedere quelli che sono i valori in scrittura e in lettura delle nostre schede qui appunto abbiamo l'angle bird oggetto della nostra prova vedete che in scrittura arriva 211 megabit secondo e in lettura 255 megabit sono valori molto molto elevati per farvi un'idea ho confrontato ho fatto un test anche su una sony che ha sulla carta le stesse caratteristiche in scrittura caliamo 86 megabit in lettura siamo più o meno sugli stessi valori guardate 255 261 in lettura siamo 86 e 4 ho fatto anche un test una sandisk s3 pro sempre xc1 però stavolta quindi se vi ricordate il bass è molto più lente quindi le raffiche saranno sicuramente più lente rispetto alla sony o rispetto ancor meglio all'angle bird qui abbiamo una velocità di scrittura di 93 e di lettura di 164 ma questo è delle stelle di scrittura di 93 nonostante sia un po più elevate degli 86 mi verrà strozzata dal bass che è più lento quindi sono valori da considerare quando si acquista una scheda vi consiglio l'UHS2 quindi questo l'avete già penso ormai capito scendendo di categoria come scheda ho provato sempre una sandisk un extreme xc classe 1 qui vedete sono calato a 51 megabit come scrittura e 90 come lettura andiamo su una tra virgolette misera e vecchia poveretta ha fatto però tanti servizi lexar pro sd qui vedete che la scrittura è calata ancora 32 mega e la lettura 67 quindi vedete che da una scheda diciamo questa è proprio un po vecchiotta a una scheda molto moderna come l'angle bird si passa a valori estremamente più elevati e se installate questa scheda o schede equivalenti sulla vostra macchina vi accorgerete subito della prontezza del buffer che diventa più ampio quindi perché praticamente la scheda riesce a immagazzinare i dati durante la raffica e tutto il vostro diciamo il vostro lavoro ne trarrà grande beneficio quindi questa scheda sd dell'angle bird è il top in ambito prestazionale ed è una scheda che può servire tantissimo sia anzi dire che al lato video è obbligatorio con ormai 4k che sono una cosa normale i 6 e gli 8k che cominciano a fare capolino avere una scheda che permette una massima velocità di scrittura e basilare ma anche per chi fa fotografia avere una scheda così veloce permette di fare delle raffiche prolungate di avere un buffer quindi che meno sotto sforzo il buffer della macchina e velocizzare tutto il vostro lavoro inoltre a queste schede che sono garantite contro tutto contro gli agenti atmosferici contro i campi magnetici alle temperature nel caso questa è una chicca di angle bird nel caso ci sia perdita di dati voi la spedite al costruttore e il costruttore vi fa recupero dati gratuitamente quindi garanzia vita per finire il nostro articolo anche se non è strettamente legato alla macchina fotografica però è molto importante direi avere dei supporti dei dischi esterni affidabili questo disco esterno l'SSD i2 è un disco down tera come vi dicevo all'inizio a stato solido anche questo resistente agli urti alla temperatura alle gocce di pioggia anche questo garantita vita ed è un disco down tera vi faccio vedere le sue dimensioni lillipuziani confrontate con un disco normale comunque sempre abbastanza compatto down tera ma classico disco con le parti in movimento che permette una velocità altissima di trasferimento dati oltretutto adesso andiamo un occhiata un po ho fatto dei test anche su questo disco sempre con il software della black magic questo è il test del ssd2 go come vedete abbiamo una velocità di scrittura di 400 megabit secondo di lettura di 425 è tantissimo io ho fatto un test sul mio sd interno che è classico l'860 evo della samsung che è un disco non il più veloce ma è tra i più veloci e qui abbiamo un 450 460 mega in scrittura e 500 in lettura guardate la differenza non è abissale tenete conto che il mio mac non è recentissimo ha un usb 3.0 mentre questo disco supporta il 3.2 e ci può essere quindi una prestazione ancora più elevata ma vedete bene che praticamente i valori non sono molto dissimili quindi questo cosa vuol dire che lavorerò con un disco esterno piccolissimo a una velocità equivalente al mio disco interno quindi potete immaginare voi montete anche un catalogo di lightroom su questo disco esterno e viaggiate più o meno alla stessa velocità in cui lavorereste col disco interno vi faccio dare un'occhiata al sito della angel bird dove ci sono i vari prodotti qui ci sono le varie schede di memoria queste qui sono le schede di memoria che abbiamo testato guardate le sdxc o hs2 v90 e come vedete i prezzi questi qua sono prezzi di listino non sono bassissimi ma tenendo conto che sono prodotti di grandissima qualità non sono neanche troppo elevati guardate anche il sd2 go portatile un disco da 500 da 500 giga vi ricordo è un ssd costa 200 euro questi sono prezzi di listino e un disco d'antera costa circa 300 euro comunque io con questo articolo vi è voluto un po chiarire le idee su quelle che sono le varie nomenclature delle schede sd e vi ho fatto vedere un prodotto secondo me estremamente interessante che è l'angel bird ci sono altre aziende che lavorano altrettanto bene ma questa è una scheda che è garantita e questo è il plus a vita su tutto quindi secondo me è una cosa specialmente a livello professionale che può essere la differenza le prestazioni comunque sono elevatissime come sono elevatissime le prestazioni di questo micro disco esterno veramente è una chicca ve ne voglia di comprarlo con questa chiacchierata spero non troppo lunga spero di avervi chiarito e quella l'importanza scusate l'importanza di questi supporti specialmente nelle macchine fotografiche quelle che sono le schedine sd quindi state molto attenti a quando le acquistate a leggere tutti i valori riportati sulle schede sd stesse se vi è piaciuto un articolo mettete un like ricordate di fare la sottoscrizione al nostro canale e di spuntare la campanellina detto questo ci vediamo alla prossima recensione ciao